Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ecco la famosissima coppia hanno scelto come padrino e madrina del piccolo Tiago. Dopo aver scelto come location per il suo baby shower lo stadio olimpico, mura amiche del suo compagno. Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, Chiara Nasti per il battesimo del piccolo Tiago è andata a bussare nuovamente in casa bianco celeste. Poche ore fa infatti il calciatore e l'influencer hanno ufficializzato la coppia che hanno scelto come padrino e madrina del loro primo genito. Si tratta di un famosissimo collega di Mattia, ormai una colonna portante della squadra dove militano, e di sua moglie, ovvero Ciro Immobile e Jessica Millena. I due fra l'altro hanno avuto il quarto figlio, Andrea, un mese prima della nascita di Tiago. A a post shared di Chiara Nasti, et Nasti Love. Al post di Chiara Nasti hanno prontamente replicato sia Ciro. E noi non vediamo l'ora. Questo scricciolino ha rapito il nostro cuore. Grazie. 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 Grazie.